La storia di Pau Valeri Cetto bilo di storio recente, portuario cosmopolito, illo singularo, secondo l'espressione di Pau Valeri, fu un fondo di ispirazione per forza autori e pintei lunghi anni passati. Toussaint Roussi fu un d'acqueles. Nascut un prim'è di d'un membre del 1847, elaborato alla fine del secolo XIX una galleria comica e attrazzenta, e n'esbussando, cuore un cuore l'autre, suscunciut adans am la pluma un ugredù. Costituis a tal de tipi setoris, empliegati del fisc, casaires, fanfaruns, cumices, piots, ajustaires, fennos en culero. Ironico, senza essere mai mai santo, Toussaint Roussi s'escriut in la muvenza del Charivario e altres franceses pintrati per eles metaises e d'etnotipes del secolo XIX. Ma se distinguis des caricaturistos contemporaneos, realizo el metais de sense texte e a que desdariés son redigiti di luxità local, lo parla setori, e pubblicati in la rivista che fundet, set illustri. Retrascriu a tal debussis di conversazione desprecious locali e immortalizzano una società settoria che avanza progressivamente capa la modernità. Rillier conservador del Museo della Vila, pinter e artiste complet, influenciat la scena artistica local fins a subraggios los mai recens, cumo l'u de Peyre François e Ives Roqueta, seto. Grazie. 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 Grazie.